Sabato 6 aprile, Istria Croata, Bortolussi, che zona c'è? Città nuova, ecco, città nuova. Domenica 28 aprile, cronoscolata del boschetto, mi raccomando, massima partecipazione anche come aiuto più che altro. Gara per amatori tesserati in consulta, sabato 8 giugno, Cividale, un giro che si è già fatto a Cividale, da 100 tolmino, circa 90-100 km, sabato 7 settembre, Slovenia, adesso non so, qua sopra, su e giù, giù e su, siamo sempre là, e sabato 28 settembre, Memorial DS Bruno Marzi, cronoscalata mattonea caresana, e poi vengono proposte, uscite in mountain bike, da definirsi qua in sede con il signor Janser, o il sabato o la domenica, in vari sentieri del Carso, con la mountain bike. Pertanto chi avesse intenzione a parteciparvi, lasse il proprio recapito telefonico al responsabile, che sicuramente andremo a deleggere nel nuovo consiglio delettivo. Non nascondate te l'ho vista.